Seconda Epistola di Pietro Apostolo Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati merce la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza, voi per questa stessa ragione mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità. Perché se queste cose si trovano ed abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco, alla vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, vi è più studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete giammai, poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. Estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovele, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato. Ma mi studierò di far sì che, dopo la mia dipartenza, abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose, poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando giunse a Lui quella voce dalla magnifica gloria, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Capitolo 2 Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. E molti seguiranno le loro lascivie, e a cagione loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Il loro giudizio già da tempo è all'opera, e la loro rovina non sonnecchia. Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per esservi custoditi per il giudizio, e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. E se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. E se salvò il giusto Lot, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore sa trarre i figli dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. E massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze, esprezzano le autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dire male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudizio maledicente. Ma costoro, come bruti, senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni, mentre partecipano ai vostri conviti. Hanno occhi pieni di adulterio e che non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figliuoli di maledizione. Lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figliuolo di Beor, chiamò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turbine, a loro è riservata la caligine delle tenebre. Poiché con discorsi pomposi e vacui adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni, nazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Capitolo 3 Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. E in ambedue io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli, sapendo questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno dove è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Poiché costoro dimenticano questo volontariamente, che ab antico, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli ed una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Ma voi, diletti, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si istruggeranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace e ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole parlando in esse di questi argomenti. nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono come anche le altre scritture a loro propria perdizione. Voi dunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, state in guardia che talora trascinati anche voi dall'errore degli scellerati non iscadiate dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo a Lui sia la gloria, ora e in sempre eterno. Amen.